Andiamo! Andiamo! Adorni! Adorni è il momento in cui servivi! Sei finalmente arrivato! Sì, casso! Sì, casso, raga! Orco digger! Sì, casso, raga! A parte che io per un momento, raga, poi lo so da voi, a me ha fatto vedere che c'era Moncini che esultava come un dannato e quindi a me ha fatto pensare che fosse Moncini, invece, Adorni! Ancora meglio, ancora meglio, raga! Ancora meglio! Il suo primo gol in bianco-azzurro, regala il primo punto, finalmente un punto importante contro una squadra che oggi, ragazzi, è da ammettere. Ha giocato molto bene, sia difensivamente che offensivamente, ragazzi, al centrocampo. Ci hanno steccati, raga, niente da dire. Bella prestazione di Fares e di Ferro e Bessaggi, raga, che sono comunque entrati dando un po' di spinta in un momento, comunque, raga, abbastanza disperato del Brescia, che non riuscìva a metterla dentro, raga, Bisoli, raga! C'è solamente che fare un applauso a Bisoli, raga, perché veramente, se non fosse stato per lui Andrenacci con la parata, ce la sognava, raga! È merito anche di Bisoli che oggi ha lottato ancora 99 minuti! È l'unico che, secondo me, oggi, oltre ad Adornia, o a Moncini, raga, oggi, boh, sarà per la contusione che ha avuto al Polpaccio, che fosse malato, però non l'ho visto così come, insolito, nelle ultime partite, non l'ho visto, raga, al centro, comunque, del gioco. Ho visto comunque sbagliare cose banane da lui, però, raga, lasciatemi godere, lasciatemi godere, godo! Godo Fes! Godo Fes! Il titolo del video, Godo Fes! Perfetto! Oh, ma è una coincidenza che esce Van Der Hoi, entra Paghera e segniamo, ma, raga, vabbè, Maran è espulso, poi si dovrà capire la dinamica, però, raga, siamo nella merda, perché senza Maran con la Reggiana, la vedo molto dura, raga, la vedo molto dura! Allora, dobbiamo, raga, puntare a fare più punti possibili, anche con le squadre scarse, raga, l'importante è fare punti, possibilmente farne tre e non uno, però anche uno potrebbe andare bene, perché, secondo me, con questa squadra qua, raga, ai playoff, beh, attenzione, perché se giochiamo come abbiamo giocato oggi, allora, uno, non so se sopravvivrei e due, se potremmo, raga, passare, raga, al primo turno, però, raga, va bene, un punto d'oro con la Samp va più che bene, Samp che, però, ricordo, ha giocato molto bene. Attenzione, raga, perché con la Reggiana, per me, dobbiamo sudare altri 90 minuti, tutti al rigamonti, raga, dai cazzo!